Una trentina di studenti che frequentano l'Istituto Tecnico Industriale Morsele di Gela, diretto da Serafina Ciotta, hanno donato il sangue nell'ambito di un lavoro sinergico e costante tra il mondo scolastico e quello del volontariato. Appuntamento questa mattina nei locali del centro di raccolta fisso di Via degli Appennini. La scuola deve essere un soggetto che si occupa della formazione dei propri allievi e priorità dell'Istituto è formare gli studenti come cittadini attivi che siano in grado di dare un contributo alla collettività. E' il pensiero del dirigente scolastico. L'Istituto Tecnico Industriale ha sempre creduto nei progetti di solidarietà e in maniera particolare in questo progetto per aiutare l'ADAS nella donazione di sangue. I nostri ragazzi sono sensibilissimi e noi insegnanti e soprattutto i dirigenti che si sono seguiti in questi anni in maniera particolare dall'anno scorso e anche quest'anno con la nuova dirigenza abbiamo sempre creduto nei progetti di solidarietà e abbiamo cercato di sensibilizzare gli alunni ad una responsabilità civile e sociale proprio per creare in loro una coscienza di cittadini attivi e responsabili nei confronti degli altri, di coloro che potrebbero avere bisogno. I nostri alunni si sono subito dimostrati sensibili a questo, infatti ci sono stati diversi incontri con l'associazione ADAS già sin dall'inizio dell'anno scolastico e in moltissimi ragazzi maggiorenni hanno partecipato e sono anche oggi per esempio qui presenti per donare. L'appuntamento di oggi fa parte del progetto FIDAS ADAS Scuola curato da Simona Averna e dal dottore Ghetano Cassarà. Il progetto Scuola va avanti, va avanti con grande entusiasmo e ringraziamo i dirigenti perché veramente ci stanno dando un sostegno non indifferente soprattutto parlando di solidarietà. Il progetto dell'ADAS è un progetto molto importante perché aiuta a salvare le persone tramite il nostro sangue, questo progetto sono venuti a conoscenza tramite la scuola che si è fatta anche molto promuotere in questo discorso. L'ADAS tramite le scuole riesce a organizzare dei gruppi nelle scuole per aiutare le persone. Io invito i miei coetanei e anche i ragazzi molto più grandi a provare questa esperienza perché è un'esperienza che ti può segnare la vita e ti può anche fare cambiare in modo di vedere la vita perché sai che da seduto donando il tuo sangue può aiutare persone che magari tu non conoscerai mai. Quindi ragazzi l'invito che vi faccio è di venire qui a provare questa esperienza e se riesce a coinvolgervi di continuare in questa esperienza. Grazie a tutti.